come dobbiamo gareggiare? partire forte e arrivare forte sono già arrivato primo, ho vinto, ah secondo, quanti sono lì? guarda quanto visione buongiorno sì, siete bene, dai, anche noi sì, noi, ok, mi raccomando, partecipare per la figura certo dopo ci sentiamo se la metodo li eri intenzionato a cambiare quindi adesso, magari prima per il cuore per il rispetto al massimo gli ero portato per il momento perché mi ha scritto una di chamarie con il coro per il servizio la crema, la crema anche la terza gamba, eh, la crema sta bene, che stai dito, eh tranquillo non vi volevo mettere la crema dai, Piedino riscaldarsi con Bugli è già per me una vittoria Lorenzo Bugli e tutti questi per me è già una vittoria bravo grazie speriamo di fare una buona gara oggi certo, come no? perché là il tempo è brutto si sta facendo nuvolo, eh forse è meglio perché sotto la pioggia si corre meglio per l'altro per un mondo mi sono riuscita a stare qui per le spalle che era preparata da scendare quindi quando ho cominciato a girare Io, 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 io... Io andavo a mandare me, a mandare il campionato, che è un gruppo d'Europa. E sono fatto tuffè a conoscire. Ciao, Antio! Oggi... Come faccio? Oggi ci sono venuti in una gara... ...danza! Ale ha abituato di fare il racing prima della gara. Sì, sì. E poi... ...un grandissimo assalto! Mi stanno chiedendo dov'era Adonado nella gara di campo... In questa prima parte... ...data a sinistra... ...e poi all'inizio del giro grande... ...i giuro che faremo... ...sono tre giuri da tutti... ... trekko erano ad una gara di campo... ...questa nuova è il tracissima... ...questa si guida il giorno, in volta... ...e poi provate a andare a fare il paciente... ...e poi a stare per il pick... ...они scopera di scopera... ...e poi si vedono... ...i quando si tirano un peccato... ...i quando si tirano un peccato... ...i quando si tirano un peccato... ...d areas, ma in un peccato... ...mai ora, in un peccato... Grazie a tutti. 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 No, a 42. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E' andata bene, sono stata sotto i 50 minuti, quindi sono molto molto contenta e soddisfatta. Grazie a tutti. E' questo qua. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Io mi guardo a tutti.